Proibito l'uso di caminetti e stufe fino al 24 dicembre, la misura è stata adottata con ordinanza dai comuni di Pistoia, Quarrata e Montale, in seguito al raggiungimento del valore 2, quello più alto, di criticità per inquinamento da polveri PM10. Il valore 2 si raggiunge quando è uguale o superiore a 7 la somma tra i giorni in cui si è superato il limite di legge, 50 microgrammi per metro cubo, e i giorni di previsioni meteorologiche critiche, cioè favorevoli all'accumulo di inquinanti. Nello specifico l'ordinanza vieta l'utilizzo di legna nei camini aperti e nelle stufe tradizionali qualora nelle abitazioni siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento con deroga per le aree non metanizzate. Inoltre la disposizione comunale invita a contenere i consumi energetici evitando inutili sprechi nella gestione degli impianti di riscaldamento attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione e il controllo della temperatura massima, negli spostamenti ridurre l'uso delle auto ricorrendo il più possibile a mezzi di trasporto alternativi e non inquinanti.